caro sindaco buonasera ecco questo è l'interruzione della strada perché qua c'è un bel laghetto ecco adesso devo tornare indietro guardi eh bello lei aveva detto che metteva a posto qua un anno fa anche i bidoni dell'immondizia però ancora qua è tutto così ecco tutto l'acqua devo dire che il video del concittadino è stato anche simpatico e gentile pur evidenziando un problema ha detto anche una cosa che ho apprezzato facendo riferimento al sindaco che il sindaco aveva promesso che si sarebbe impegnato a risolvere il problema e oggi sono qui perché ancora una volta dimostro che quello che dico cerco di mantenerlo poi ovviamente le tempistiche sono quelle che devono fare i conti con la struttura con le disponibilità che abbiamo gli uffici mi hanno detto che dalla settimana prossima io cerco di essere sempre prudente dico fra due settimane così abbiamo qualche giorno in più partiranno i lavori e cosa faremo andremo a chiudere i pozzi esistenti che non erano in grado di raccogliere le acque e non erano funzionali al problema all'esigenza quindi faremo dei nuovi collettori che si traduce in un adeguamento della rete fognaria quindi dei collettori che si collegheranno con la rete fognaria che è alla rotatoria poco vicino poco lontano da qua faremo delle caditoie ai bordi delle strade per raccogliere le acque che poi andranno a ricollegarsi con la rete fognaria in questo modo si risolve il problema fra due settimane inizieranno i lavori e anche questo come annunciato e come promesso si risolverà questo problema e l'intervento lo faremo quindi vorrei sottolineare questa cosa che ancora una volta quanto detto e quanto assunto come impegno viene rispettato grazie grazie grazie